Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, ben trovati in questa nuova analisi, siamo ancora su Bitcoin perché, come dice anche il titolo che ho messo a questo video, le balene stanno vendendo che si intende per le wall, per le balene che sono possessori di importanti quantità sono wallet con almeno 1000 Bitcoin che a giorno d'oggi hanno comunque un valore non indifferente questo tipo di discorso, giusto per fare un piccolo escursus, è molto importante perché tutti sono convinti che holdare sia una formula vincente quando si fanno investimenti sulle crypto oggettivamente lo è per chi è comunque così basso profilo quindi per chi magari ha acquistato, non so, l'altro hanno un Ethereum, due Ethereum, ma anche 10 Ethereum e li vuole mantenere in portafoglio perché non ha il potere di spostare e manovrare il mercato quando però tutto si capovolge nel senso che il mercato è eccessivamente comprato e io magari sono un importante possessore di Bitcoin il vantaggio di poter vendere a un prezzo alto e di riacquistare a un prezzo basso beh, questo è poco ma sicuro ma io non me lo farei mai scappare quindi è su questo che va a cadere il discorso delle balene che vendono mentre tutti gli altri holdano il fattore poi, trend, che ora andiamo a vedere come al solito non sono consigli finanziari ma è la mia analisi tecnica proprio approcciata sui mercati come ho fatto vedere anche l'altra volta nel dettaglio Bitcoin spesso quando storna, storna per almeno un 20-25% come media al momento siamo intorno al 24% di storno con la candela avvenuta proprio l'altro giorno grosso modo aspettate un attimo, voglio mostrarvi bene quello che potrebbe essere un target interessante per lo storno ovvero questo supporto a 45.000 al momento siamo sui sul 22% di storno quindi è comunque uno scarico è un ritracciamento molto importante che personalmente non mi fa particolare impressione sul lungo periodo ovviamente il mini trend rimane ribassista al momento e non c'è ancora alcunissimo segnale di inversione per quello che riguarda appunto aspettate che puliscono un attimo il grafico per essere un po' più chiaro perché poi alla fine chi sta guardando il video dice perfetto ma da che parte andiamo? ok io immagino questa domanda nelle vostre teste nella tua testa in particolare che stai guardando il video allora da che parte si va? sul lungo periodo al momento io credo che sia ancora opportuno poter tranquillamente mantenere bitcoin in wallet perché è abbastanza chiara l'indicazione del mercato per quello che riguarda invece chi fa trading o chi fa magari movimenti un po' più veloci sicuramente il mini trend è ribassista e personalmente io attenderei la rottura e rialzo di questa zona qua come prima ipotesi e come seconda ma ancora più importante resistenza senza dubbio questa zona qua quella che era il supporto da rompere che è stato rotto diventa poi adesso la resistenza da oltrepassare quindi ve la zoom un attimo per essere un po' più chiaro il trend probabilmente ripartirà una volta che bitcoin romperà increscendo questa resistenza qui perciò questi valori tra i 53.000 e i 54.000 al momento siamo ribassisti insomma questa era un'analisi lampo su bitcoin per la domenica per chi fa l'holder a tutto senza sosta e senza freni nessun problema per chi invece è un po' più orientato al trading dinamico sicuramente queste sono cose alle quali stare attenti molto importante mi raccomando ragazzi è considerare sempre quelli che sono storicamente supporti di resistenza che hanno un certo tipo di valore e di conseguenza diventano poi punti nevralgici dai quali bitcoin potrebbe ribaltarsi o addirittura proseguire il trend in atto quindi non vi resta che iscrivervi a Malati per le Crypto ci vediamo alla prossima analisi sempre qui dal vostro analista tecnico dei mercati in questo caso delle criptovalute grazie grazie grazie